Sono Michelangelo Di Toma, vi introduco nel mondo di Yamme Cleod esattamente nella distilleria di Tamdu che è diventata di proprietà di Yamme Cleod intorno al 2010, se ricordo male. Yamme Cleod, un'azienda i cui antenati di Leonard Russell hanno sempre lavorato nell'assemblaggio, quindi acquistare i whisky da diverse origini e poi assemblarli e rivenderli con dei blended più o meno importanti. Leonard Russell decide, diventando proprietario della Yamme Cleod, la guida della Yamme Cleod, di acquisire alcune distillerie, tra queste Tamdu. Tamdu era una distilleria di proprietà di un gruppo che decide di sfarzane, ce n'aveva abbastanza e quindi Tamdu secondo loro non era remunerativa, un whisky che si vendeva poco. Leonard Russell intuisce che dietro Tamdu ci può essere una forza, perché? Perché Tamdu come distilleria è una distilleria che ha una sua struttura, produce 4 milioni di bottiglie, soprattutto ha un modo di lavorare il malto, il cereale è un whisky mediamente torbato, ha un modo di lavorare il malto, esattamente il cereale, in una particolare maniera. Il malto, una volta che viene messo in acqua, si fa asciugare a pavimento, però poi a quel punto le persone che lavorano nella distilleria devono rimestare il malto continuamente per evitare che si formino delle muffe. Questa è stata una distilleria progettata da un architetto geniale, che ha fatto una struttura adatta per una distilleria, ma soprattutto è una distilleria che ha adottato prima tra tante distilleria il salad in box, dal nome di un ufficiale francese. Salad in box è un metodo, una metodologia che serve per asciugare il cereale, una volta bagnato nella sua fase di lavorazione, per asciugarlo senza utilizzare il grande pavimento, ma semplicemente mettendolo in un contenitore, ci sono delle pale che ruotano in continuazione e questo cereale viene essiccato. In questo modo il processo di esticcazione è uniforme per tutti quanti i cereali e non si hanno quei difetti, diciamo così, dell'artigianalità dell'omino che sposta il cereale all'interno della distilleria. Una volta che poi questo cereale, selezionato in maniera particolare, viene lavorato media torbatura, a quel punto con una lenta distillazione si ottiene un ottimo whisky che adesso andremo ad assaggiare per la nostra occasione speciale. Questo ottimo whisky, Ian McLeod, la Ian McLeod ha voluto rifare la bottiglia, creando una bottiglia originale, ma soprattutto nella sua idea era quella di fare il vecchio nuovo McCallum. Questo whisky è unicamente lavorato, invecchiato, affinato, portato alla fine dell'invecchiamento, solo e unicamente in botti, ex sherry. E andiamo ad incontrare il nostro Tamdu, 12 anni. E poi il desiderio di bere. Ecco, è quel whisky per questo mio momento particolare della giornata. Sento un odore di frutta secca, sento un odore di frutta fresca ma è frutta rossa. Avrò con me magari della frutta secca da abbinare, oppure della cioccolata con la frutta secca. Questo potrà essere un buon momento. Prova ad assaggiarlo. L'assaggiamolo insieme. Caldo, coinvolgente, una sensazione di sherry piena, quindi una sensazione di uva, di uva passa, ma anche di panettone, ma anche di pandoro, di dolce natalizio, con le mandorle, con la buccia d'arancia, col mandarino. Quante sensazioni riesce a regalarmi. I profumi rimangono ben centrati nella bocca. E adesso, solo adesso, sta arrivando una leggera sensazione di fumo, di fumoso, che però si accompagna a questo whisky. Ecco, il mio momento giusto, il mio momento desiderio, desideroso di questa giornata, il momento in cui il desiderio incontra un whisky, è proprio questo. Quello per incontrare Tamdu, 12 anni. Di nuovo, all'olfatto. Queste sensazioni meravigliose. L'alcool sembra quasi essere scomparso, ma se lo sento mi pizzica il naso. Vi ho insegnato, vi ho raccontato di un trucco, vi ho svelato un trucco, un segreto. Soffiato nelle bicchiere, tirando su con il naso, l'alcool si allontana. Sentiamo meglio i profumi. Degustiamolo insieme. Mastichiamo, perché così la saliva riesce ad armonizzare il whisky e a tirare fuori meglio i profumi. Ed ecco questa sensazione secca, ma dolce nello stesso tempo. La frutta secca, la nocciola, la mandorla. Anche un po' di cacao. E questa parte fumosa viene fuori come fosse una foglia di tabacco. Questa è l'espressione di un whisky. Questa è la special occasion, l'occasione speciale, il momento particolare nella mia giornata in cui voglio premiarmi e concedermi un whisky particolare, degno per me di questo momento. Questo è quello che ci vuole. Slánceva, alla salute! Grazie. Grazie.